Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Beh, se avete visto i miei precedenti video sapete sicuramente che sto seguendo con grande attenzione il lancio del DJI Nio. Bene, oggi però abbiamo alcune novità davvero interessanti che ho da condividere con voi, grazie alle ultime informazioni che mi sono arrivate proprio oggi. Beh, si parla di prezzi, si parla di data di uscita e anche di versioni di questo nuovo drone. Quindi rimanete sintonizzati, non perdetevi assolutamente questo video, rimanete incollati fino alla fine che vi dirò esattamente quando esce e il prezzo di questo nuovo DJI Nio. Prima, come al solito, vi chiedo un like sulla fiducia, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, se vi va, e niente, lasciatemi un commento se avete qualche dubbio su quello che vi sto appena dicendo. Beh, prima di tutto parliamo di alcune delle funzioni più interessanti del DJI Nio, che sta introducendo DJI proprio con questo ultimo drone. Una sicuramente è quella che riguarda il volo senza radiocomando. Lo potremo pilotare come over, quindi tramite il display che vi sto vedendo adesso in questa immagine possiamo andare a programmare il tipo di volo che vogliamo fare con questo nuovo drone. E questo è fantastico non solo per chi ha le prime armi, ma anche per chi ha le mani occupate, magari sta facendo un'escursione e si vuole riprendere, beh, senza niente in mano. Inoltre, questo nuovo drone sarà pilotabile tranquillamente con il DJI RC Motion 3. Non dimentichiamoci, questo drone ha l'OcuSync 4, l'ultima versione, quindi con tutti i dispositivi di controllo, l'OcuSync 4, lo potremo pilotare. Visori, Motion 3, DJI RC, quello del Mini 4 Pro e anche quello di Avatar 2. Ora parliamo però delle caratteristiche tecniche che rendono questo drone molto molto interessante. Una delle più attese novità, e anche discusse, è quelle relative alla memoria. Non avremo più il supporto della scheda SD, ma avremo 22 GB di memoria interna dedicata. E io la trovo una cosa eccezionale perché in questo modo non devo più andare a togliere la SD, infilarla nel computer, poi la voglio mettere nel telefonino, mi serve un adattatore. In questo modo sincronizziamo tutto automaticamente tramite Wi-Fi. Beh, se siamo dei professionisti magari può essere una limitazione, perché 22 GB a qualcuno possono sembrare tanti, ma altri no. Per me, sicuramente, questa è la scelta ottimale. Beh, fatemi sapere voi cosa ne pensate al riguardo. Però per quanto riguarda altre caratteristiche tecniche, pensate bene che questo drone monterà una fotocamera da 12 megapixel in grado di catturare immagini in risoluzione da 4000x3000 pixel nel formato 4 terzi e 4000x2256 nel formato 16 noni. Il drone avrà un supporto al 4K, a 30 fps, e avrà anche una stabilizzazione elettronica di tipo EIS, che garantirà riprese fluide anche in condizioni non ottimali. E questo è un vantaggio enorme per chi vuole ottenere filmati cinematografici senza dover investire in attrezzature costose. Inoltre, un'altra cosa che molte mi hanno chiesto, ma che adesso possiamo dare per certo, è che il drone sarà dotato di un sistema GPS. Abbiamo le costellazioni GLONASS, GALILEO e BEIDOW. In questo modo abbiamo una precisione e lo stazionamento del drone è veramente piantato, è incredibilmente fermo. La precisione, beh, parliamo di 30 cm circa, e questo consentirà una precisione di stazionamento veramente incredibile, veramente precisa. Ma non solo, questo consentirà anche il ritorno a casa automatico, una funzione molto molto interessante, una funzione di sicurezza e utile in qualsiasi caso. Trano che noi voliamo al chiuso, quindi una funzione però che è molto molto importante avere. Parliamo della resistenza al vento. Prestazioni di volo, beh, parlano di una resistenza al vento fino a 8 metri al secondo, che corrisponde al livello 4, quindi non al livello 5 come il Mini 4 Pro o gli altri droni della serie Mini rilasciati ultimamente, ma uno step precedente, uno step un pochino più basso, ma è giusto perché è un drone che pesa pochissimo. In termini di autonomia, questo nuovo drone avrà una durata di volo stimata di 18 minuti e questa è più che sufficiente per la maggior parte delle sessioni di ripresa, perché consideriamo che abbiamo un micro drone tra le mani, quindi 135 grammi, beh, mi sembra una durata di 18 minuti compatibile e più che sufficiente. Naturalmente sarà in classe C0, un drone che esce nel 2024, non potrà che essere marcato con classe C0, quindi lo potremo condurre anche sopra persone non informate, ricordo mai su assembramenti e ricordo anche consultate sempre nelle mappe di flight prima di volare. Le dimensioni sono di 130 x 157 x 48,5 mm, non è ripiegabile, questa è una cosa, mi dispiace, però è così. Ma adesso andiamoci a vedere i prezzi, beh, verrà commercializzato in due versioni, una versione, quella base, 199 euro, un prezzo d'attacco esageratamente basso, mentre la combo 349 euro. Beh, inoltre vi dico anche il prezzo delle batterie, che verranno 39 euro a batteria. Quasi sicuramente queste versioni comprenderanno il drone nella versione base e poco più la batteria, forse il radiocomando, quello standard, quello DJI senza display. Beh, questo prezzo è veramente basso, mi farebbe pensare che forse però potrebbe non esserci il radiocomando, non sono sicuro. Beh, l'altra versione, quella da 349 euro, la combo comprenderà tre batterie, la basetta di ricarica e il radiocomando o il motion control. Nelle foto trapelate si vede sempre il radiocomando DJI RCN2, però non abbiamo la certezza che questa sia la versione che verrà ufficialmente poi venduta nei negozi. Il drone verrà commercializzato il 9 settembre, quindi abbiamo la data adesso ufficiale 9 settembre. Ricordatevi di questa data, se magari avete intenzione di acquistare un drone potete già programmare l'acquisto su queste informazioni che per me sono sicuramente attendibili. Sicuramente è un drone che porterò qua nel canale, quindi vi invito a rimanere sintonizzati, ci saranno molti video a riguardo. Un drone che me lo vado a acquistare, l'ho già preordinato, me lo andrò a acquistare al mio negozio di fiducia, non me lo mandano, a differenza di qualche fortunato che lo riceve in regalo, in qualche modo, però questo mi garantisce sicuramente nei vostri confronti una trasparenza massima, perché se il drone valrà effettivamente l'acquisto ve lo dirò senza nessun tipo di timore, perché magari me lo hanno mandato e quindi un po' di reverenza nei confronti di chi me lo ha spedito gratuitamente ci potrebbe essere. Beh, quindi vi invito a rimanere sintonizzati e supportarmi in qualche modo acquistando dai miei link che lascio qua sotto al canale e anche su Amazon. Penso che Amazon sia diciamo il canale migliore per acquistare un drone perché abbiamo anche modo di vedere se effettivamente è una cosa che fa per noi e abbiamo i 30 giorni di tempo poi per poterlo restituire. Beh, rimanete sintonizzati quindi ci vediamo a nuovi video, alla prossima, ciao!